Evento unico a livello internazionale e questo è il pensiero del primo cittadino del comune di Rutino Giuseppe Rotolo in merito al volo dell'angelo. Si tratta di una sacra rappresentazione che coincide con la festa patronale in onore del santo protettore del paese, San Michele Arcangelo, che ricade la seconda domenica di maggio. La sacra rappresentazione porta in scena la lotta tra San Michele Arcangelo e Lucifero. L'attore, che interpreta l'angelo, parte dalla loggia della Canonica, imbracato ad una carrucola che scorre su una fune, è fatto avanzare lentamente fino a porsi di fronte al palco, dove la scenografia predisposta raffigura l'inferno. A quel punto Lucifero si dichiara pronto alla battaglia e sfida l'angelo. Inizia così lo scontro in un simbolico duello nel corso del quale l'angelo sconfigge il diavolo, sprofondandolo negli inferi. Dopodiché il sindaco Rotolo si sofferma sull'altro evento che caratterizza il comune di Rutino, il miracolo di San Matteo, che l'amministrazione comunale intende valorizzare al fine di creare un turismo religioso. Infatti, secondo la tradizione, San Matteo fece sgorgare miracolosamente dalla roccia un getto d'acqua fresca e cristallina. La fontana di San Matteo esiste tuttora ed una lapide rievoca il miracolo. Rutino deve essere un punto di interesse e perché merita di esserlo perché Rutino ha due cose che sono assolutamente uniche. Il volo dell'angelo che è un evento unico, credo, a livello internazionale ed è bellissimo ed è un evento che va pubblicizzato, va promosso a più non posso. E poi abbiamo un'altra cosa che è altrettanto importante ed è San Matteo. Noi rappresentiamo una delle cinque tappe della traslazione di San Matteo. A Rutino i portatori insieme al Vescovo, nel mentre camminavano per spostarsi da Casalvelino a Capaccio, si fermarono assetati e San Matteo tirò fuori il miracolo dell'acqua. Quindi questa fontana che del 954 è ancora lì, è ancora lì che dà acqua, che si lascia ammirare nella sua storicità e nella sua bellezza e che noi stiamo tra l'altro immaginando di recuperare nei prossimi mesi andando a riabbellirla, a renderla visitabile anche all'interno perché ha dei bottini all'interno veramente straordinari, bellissimi. e oltre a questo con il progetto POC noi intendiamo valorizzare la tappa di San Matteo. Quindi il 3 e il 4 maggio avremo qui da una parte diciamo più religiosa la visita della reliquia di San Matteo grazie alla diocesi del Duomo, alla parrocchia del Duomo di Salerno e avremo poi il 4 maggio una grande rievocazione storica che si pone l'obiettivo di rappresentare, di riportarci indietro nel tempo e farci rivivere questo miracolo dell'acqua che San Matteo fece qui a Rutino.